Tempo di primarie a Marciano. Ieri abbiamo parlato con i rappresentanti di alcuni dei comitati che si sono fermati per i candidati alle primarie e oggi cerchiamo di parlare con delle persone di Marciano che andranno a votare a queste primarie. Scusi, lei domenica andrà a votare alle primarie? Certamente, certamente. E chi voterà? Noi del comitato Bersani abbiamo le idee chiare. Vinceremo questo confronto, questo grande confronto democratico e partecipativo, anzi invitiamo tutti voi a venire a votare, vi verremo a prendere in autobus come ogni anno. Per Marciano abbiamo grandissimi progetti, qui sorgerà una piazza e al posto di quegli alberi sorgerà una statua di Papa Giovanni in cemento, perché dovete sapere che se Papa Giovanni non paga più la ricarica telefonica è merito di Pierluigi Bersani. Noi del comitato Renzi vogliamo andare oltre questo PD, per questo parteciperemo alle primarie del PDL. Su Marciano abbiamo le idee chiare, faremo questo, quello e quell'altro. Finalmente proposte concrete e non la solita fumosità di un centro-sinistra che negli anni ha saputo solo perdere. Compreremo Marciano 7 e Lea Nestor, rottameremo la macchina del sindaco e quella del regista di Marciano 7 che è una Fiat di Marchionne. Noi del comitato Vendola sappiamo che la politica è guardare in alto, più in alto del cielo e ancora più su. Noi siamo la sinistra del centro-sinistra, questo significa lavoro, diritti e ricerca disperata dei voti dei moderati. E non sappiamo neanche chi siano questi moderati, ma nelle nostre corde c'è la volontà di una ricerca sostanziale che non sia solo interiore. Faremo grandi cose per Marciano un giorno. Noi del comitato Tabacci crediamo che si possa crescere politicamente nell'Udc, appoggiare l'ascesa di Berlusconi, votare le leggi ad Berzonam e poi entrare nel PD. Il nostro è un percorso politico chiaro. Per Marciano, a differenza di altri, abbiamo già fatto qualcosa. L'Udc qui infatti non c'è più. Noi del comitato per Laura Puppato la stiamo ancora cercando. Se la vedete fateci avere notizie. Per Marciano abbiamo in mente grandi cose, ma non sappiamo loro. E anche questo viaggio quindi tra le primarie di Marciano pare essere terminato. Abbiamo parlato con tutti. Lei, scusi, lei voterà alle primarie? Chi è lei? Sì, io sono del comitato Socialisti per Bersani. Noi del comitato Socialisti per Bersani voteremo alle primarie per Bersani. Non vogliamo niente, chiediamo solo aiuto. Dateci una mano, grazie. Va bene, abbiamo quindi terminato veramente questo nostro excursus sulle primarie di Marcianesi e... Prego, lei? Sì, no, anche io volevo dire qualcosa riguardo alle primarie del centro-sinistro. E io per Giorgia Meloni. No, quelle sono le primarie del PDL, quella è la prossima puntata. Scusi, va bene. È tutto, arrivederci.